il cielo benedetto il cielo della buona morte che quella santa donna s'era portato dalla chiesa madre al paesello natale faceva ora il suo ufficio lo aveva custodito tant'anni per sé in fondo all'armadio e ora esso ardeva su un lungo candeliere di piombo e quasi vegliava con ricordi umili e cari del lontano paese struggendosi in lacrime sul fusto dietro il capo della morta già stesa sul pavimento dentro la bara ancora scoperta nel posto occupato prima dal letto ogni quel volta mi viene in mente la mia prima moglie mi si affaccia con straordinaria lucidità questa funebre visione la santa donna stesa in quella bara e amalia sanni la sorella maggiore e vorrei dire la madre di mirina rivedo la camera modestissima e oltre al cero benedetto due altri ceri più piccoli e si consumano più presto ai piedi della bara crepitando di tratto in tratto io me ne sto seduto presso la finestra e come se la sciagura in attesa mi avesse più stordito che addolorato guardo i parenti e gli amici convenuti per quella morte gente savia e da bene mi guarderei dal negarlo ma che peccato di troppo zelo nel farmi accorgere dell'antipatia che sentivo per me certo ne avevano ragione ma non mi aiutavano così a rinsavire che io anzi da quei loro sguardi traevo argomento di compatirli sinceramente io amavo amalia sanni come una sorella riconosco ora in lei un solo torto questo che la sua anima s'accordava in tutto e per tutto con la mia nel concepir la vita non direi però che l'era matta direi tutto il più che amalia sanni non fu savia come san francesco perché non c'è via di mezzo o si è santi o si è matti con cura tutte e due ci sforzavamo di ridestare l'anima di mirina senza pertanto sciupare la freschezza della sua sconnessa e quasi violenta vitalità senza mortificarne per nulla quel suo minuscolo corpicino da bambola pieno di vivacissime grazie volevamo insegnare a una farfalla non a chiuder le ali e non volar più ma non andare a posarsi su certi fiori velenosi senza intendere che per la farfalla quel che a noi pareva veleno era il proprio cibo basta non voglio qui dilungarmi a narrare la mia infelice esistenza coniugale con mirina dirò solo che ella detestava in me quel che ammirava in sua sorella e per questo ora mi sembra naturalissimo a un tratto nella camera mortuaria entrò sbuffante una delle cugine di mia moglie di cui non ricordo più il nome pingue nana con un grosso paio d'occhiali rotondi che le ingrandivano mostruosamente gli occhi poverina si era recata all'aperto a raccogliere qua e là quanti più fiori aveva potuto nelle vicinanze della villetta e ora veniva a spargerli sulla morta aveva nei capelli scompigliati il vento che urlava fuori gentile e pietoso quel pensiero ora lo riconosco ma allora ricordavo che pochi giorni addietro amalia nel vedere mirina ritornare alla villetta con un gran fascio di fiori aveva esclamato tutta afflitta peccato perché nella sua santità di fatti e la riteneva che quei fiori di campo non nascono per gli uomini ma sono come il riso della terra che esprime gratitudine al sole per il calore che esso le dà strappare quei fiori era per lei una profanazione io matto confesso che non seppi resistere alla vista della morta coperta di quei fiori non dissi nulla me ne andai ricordo ancora l'impressione che mi fece quella notte improvviso spettacolo della natura quasi tutta in fuga nell'urlante veemenza del vento fuggivano squarciate per il cielo con disperata furia le nuvole a schiera infinita e pareva si trascinassero secolo a luna pallida dallo sgomento gli alberi si contorcevano stormendo cicolando spasimando senza requie come per sradicarsi e fuggire pur là pur là dove il vento portava le nuvole a un tempestoso convegno anima mia che nell'uscir della villetta era tutta chiusa nel cordoglio della morte a un tratto si aprì come se il cordoglio stesso si fosse spalancato al cospetto di quella notte altro dolore immenso mi parve che fosse nel cielo misterioso in quelle nuvole squarciate e tracinate altra pena arcana nell'aria infuriata e urlante in quella fuga e se così gli alberi muti si agitavano anche uno spasimo ignoto doveva certo essere in loro a un tratto un singhiozzo quasi un bollo di paurosa luce e in quel mare di tenebre un chiurlo da si vuolo nella valle laggiù e lontano griditi terrore i grilli che scampanellavano di là verso la collina investito dal vento andai tra gli alberi a un certo punto non so perché mi voltai a guardare verso la villetta che mi presentava l'altro lato dopo aver guardato un pezzo improvvisamente mi protesi per discernere tra il buio se quel che mi sembrava di vedere fosse severo presso la finestra bassa della camera in cui mirina si era ritirata a piangere la sorella stava e si agitava come un'ombra poteva essere negli occhi miei quell'ombra me li stropicciai così forte che per un attimo dopo non riuscii a discernere più nulla quasi che una tenebra più fitta fosse caduta attorno per impedirmi non di vedere ma di credere a ciò che mi era parso di vedere un'ombra che gestiva l'ombra di un albero agitato dal vento tanto era lontano da me il sospetto che mia moglie mi tradisse veramente mi sembra di non presumere troppo pensando che in una notte come quella sarebbe stato lontano da tutti un tale sospetto e che forse tutti come me quando mi accorsi che quell'ombra era proprio un uomo in carne ed ossa avrebbe ritenuto che fosse un ladro notturno e come me sarebbero corsi di soppiatto a prendere uno schioppo per intimorirlo anche sparando in aria se non che io quando scoprì che genere di ladro fosse colui non gli sparai né sparai in aria appostato lì chino all'angolo della cascina vicinissimo alla prima finestra dove essi parlavano tra loro in preda a continui brividi taglienti come rasoiate alla schiena mi sforzavo di udire ciò che dicevano codivo soltanto mia moglie atterrita dall'incredibile audacia di colui lo spingeva ad andarsene parlava anche lui ma così basso e affrettatamente che non solo non riuscivo a intendere le sue parole ma dal suono della voce non potevo ancora riconoscerlo vattene vattene insistiva lei e tra le lacrime aggiunse altre parole che mi impietrarono di più intravì di tutto e gli era venuto in quella notte tempestosa per chiedere notizie dell'inferma ed ella gli disse l'abbiamo uccisa noi ah dunque amalia aveva saputo aveva scoperto prima di me il tradimento che colpa che colpa no disse gli forte smanioso a un tratto bardi lui cesare bardi il mio vicino lo riconobbi lo vidi nella sua voce tozzo e solido quasi nutrito di terra di sole ed aria sana udì subito dopo le persiane accostarsi con violenza come se il vento avesse aiutato le mani di lei udì che egli si allontanava ed io mi mossi dalla positura in cui mi ero messo seguì con l'udito rattenendo il fiato i suoi passi più lenti assai dei battiti del mio cuore poi mi rialzai in preda al primo sballordimento e allora quel che avevo veduto inteso quasi non mi parla più vero possibile possibile diceva me stesso errando di nuovo per la campagna tra gli alberi come ebbro usciva dalla gola un mugolio sordo continuo che si confondeva col violento stormire delle foglie come se il mio corpo ferito si dolesse per suo conto mentre l'anima sconvolta stupita non gli badava possibile intesi alla fine quel mugolo che partiva da me e mi arrestai arrangolato e mi ferrai forte con l'una mano e con l'altra gli omeri incrociando le braccia sul petto quasi per trattenermi e sedetti a terra ruppi allora in singhiozzi disperati piansi e piansi poi spossato alleggerito cominciai a esortar me stesso ma dirò solo quello che feci dopo aver pensato a lungo sarà meglio ormai sono passati tanti anni commuovermi ancora di questa mia vecchia sciagura temo che non sia degno di un uomo savio tanto più che pure anzi certo mi diportai malissimo nevatomi dunque da terra mi misi a errar di nuovo ed un tratto mi sentii quasi forzato a nascondermi ancora una volta e mi accoccolai dietro la siepe che limitava il mio campo da quello di lui il varti ritornava lentamente alla sua villa e passare davanti a me nascosto dalla siepe lo sentii sospirare profondamente nella notte questo ospiro me lo avvicinò tanto che quasi ne provai ribrezzo per quel sospiro fui proprio sul punto di ucciderlo potevo solo che avesse alzato un po il fucile anche senza darmi la pena di prendere la mira tanto vicino mi passava lo lasciai passare ritornato di corsa alla villetta trovai che i parenti si erano ritirati dalla camera della morta e che soltanto due servi erano rimasti a vegliare mi dispensai dal triste ufficio dicendo che avrei vegliato io mi trattenne un po a contemplare mia cognata che mi sembra più tranquilla più serena come se morta dentro l'ombra della colpa di cui aveva voluto osservare l'orrendo segreto ora ne fosse uscita poiché io sapevo tutto entrai quindi nella camera di mirina ma trovai che piangeva appena mi vide si cangiò il volto non temere le dissi vieni con me dove con me non avrai più rimorsi che intendi dire io voglio fare non dire quello che tu vuoi vieni intanto ti farò vedere la presi per mano la tirai tremante fremente e la si lasciò trascinare fino alla camera della morta e additai la sorella vedi e dissi ora ella ti perdona e tu puoi ripetere a me che l'hai uccisa tu io sì come l'hai detto poc'anzi alla finestra a lui zitta non gridare non ti fu nulla andrai ora stesso via da questa casa non piangere è la tua prigione voglio liberarti cade in ginocchio con la faccia per terra supplicando perdono pietà aiutai subito rialzarsi imponendole di fare silenzio la tirai fuori della stanza dove dove chiedeva lei angosciosamente dove tu vuoi non temere e se vuoi essere punita sarà punizione se vuoi ancora godere godrai liberamente ti libero ti libero avevo ancora lo schioppo in spalla come ella mi guardò sospettando ragionevolmente che con le buone volessi attirarla fuori me ne accorsi sorrisi amaramente e corsi a posare l'arma in un angolo della saletta non voglio farti male no che dovere hai tu da amarmi per forza dove mi conduci da lui che t'aspetta entrando in una casa pensavo io allora dobbiamo contentarci della sedia che l'ospite può offrirci senza restare a pensare se dall'albero donde quella sedia fu tratta l'altra sedia di miglior foggia e di maggior dimensione avremmo tratta noi per il nostro gusto e per la nostra statura per mirina erano troppo alte le sedie di casa mia sedendo restava con le gambe spenzolate ed ella voleva sentire sotto i piedi la terra ma avevo promesso di riferire soltanto quello che feci bene passi questo breve saggio di pazzia quanto sarebbe stato più spiccio tirare una fucilata ma la tenevo per mano all'aperto le parlavo andando non so bene quel che le dicessi so che ad un certo punto e la svincolò il polso della mia mano e scappò via di corsa di corsa tra gli alberi come portata dal vento io rimasi perplesso sorpreso da quella fuga improvvisa pareva che ella mi seguisse così docile chiamai come un cieco mirina mirina era sparita nella tenebra tra gli alberi erai in cerca a lungo in vano ruppe l'alba cercai ancora finché ogni dubbio non fu vinto dalla certezza che ella era andata da sola a rifugiarsi là dove io senza alcuna violenza volevo condurla guardai il cielo velato da striscerade che erano come la traccia superstite della gran fuga delle nuvole nella notte e mi sentì stordito in mezzo a un silenzio nuovo inatteso con l'impressione vaga che qualcosa fosse venuta a mancare tutto intorno alla terra ma sì ecco il vento il vento era abbattuto gli alberi erano immobili nell'umida squalli da luce di quell'alba quanta stanchezza in quella stupefatta immobilità ero sfinito anch'io e mi posi a sedere per terra guardai le foglie degli alberi più vicini e sentì che se un soffio d'aria in quel momento fosse venuto a smuoverle esse avrebbero forse provato lo stesso senso di dolore che avrei provato io se qualcuno fosse venuto a scuotermi una mano mi sovvenne a un tratto che la morta era sola nella villetta che c'erano i parenti quali forse quell'ora si erano svegliati e domandavano di me e di mia moglie balzai in piedi e via di corsa stimò inutile rappresentare agente savia quel che seguì quei bravi parenti insorsero tutti alle mie parole alle mie spiegazioni mi proclamarono pazzo e anzi quella cugina pingua e nana dagli occhiali rotondi mentre tutti vociavano trasse dalla concitazione generale il coraggio di strillarmi in faccia con le pugna serrate imbecille aveva ragione poverina affrettarono il trasporto della defunta alla chiesa del prossimo villaggio e mi lasciarono solo dopo due anni mi rivedo il viaggio il varde abbandonato mirina la quale sottratta la miseria il vizio la disperazione vive in casa di una parente e lei però in potere di un male orribile sta per morire col mio perdono con la mia pace io ho sperato sognato di allegrarle gli ultimi giorni di vita riconducendola alla nostra campagna mi presento a lei in quella camera squallida le dico mi comprendi ora no mi risponde lei ritirando la mano che voglio accarezzarle e guardandomi odiosamente e anche lei poveretta aveva ragione